Buongiorno, siamo alla palestra Marco Polo di Rimini, dove tra poco si esibiranno tre squadre di sitting volley e per l'occasione vi presentiamo il nostro arbitro e giocatore. Buongiorno. Ciao, tuo nome? Gennaro. Da quanto arbitri e da quanto giochi a sitting? Siamo all'arbitraggio su 10-12 anni e gioco a sitting da 9. Qui abbiamo la nostra esperienza. Bene. E questa mattina quante partite affronterai? Due. Perfetto. Ti auguro una buona giornata e buon divertimento. Grazie. Grazie a te. Ciao, ciao. Buongiorno. Ben arrivato. Salve. Grazie. Allora, presentati pure. Sono Stefano Ristori Tomberli, del sitting volley della Pallavolo Bacci Campi di Firenze e da 11 anni qualche anno avanti questa attività come Pallavolo Campi e siamo felici di essere presenti per la prima volta nella Rassegna Nazionale Ristro. Io ti ringrazio tantissimo di essere qua e aspettiamo il vostro gioco. Sì. Grazie mille. Grazie a te. Ciao. Ciao. Ciao.